Il mio è... Cioè, minimo, al minimo 2-3 centimetri di più di questo. No, i nostri sono uguali. Vupper violence, violence come Jack. Eccoci qua, siamo tornati a fare fuoristrada. Ragazzi, dopo una pausa estiva infinita, perché veramente siamo a novembre, ritorniamo a mettere le ruote nel fuoristrada. Oggi primo raduno e con chi lo facciamo? Con i nostri amici del club Avventurina 4x4. Siamo a Monte Rotondo Marittimo, autunno 2-0-2-4. Oggi i ragazzi di Mariana e Mota sono veramente tanti, perché siamo a dieci mezzi, quindi ne vedremo delle belle. Un giro, dice, abbastanza tranquillo, ma non mancherà qualche variantina per i più ardimentosi. Beh, che dire, per adesso, ma solo per adesso è tutto, ci becchiamo tutti. Grande, buongiorno. Buongiorno ragazzi, oggi... Come andiamo? Uno ardabestia, che ne pensi? Beh, oggi gas in fondo. Ci sta, ci sta. Purtroppo abbiamo lui, che l'asle ce l'ha dato, quindi... Sì, vabbè, però ce la si rende. Grande! Bene, bene, facciamo questa iscrizione. Tembri del maiale che in moto. Si vuole un giac si gira, però. Eccoci qua, eccoci qua. Quasi al completo. Oggi è una mezza rimpatriabile, queste bichette. Più di metà del gruppo. Stai fuori contesto, perché ti dovresti avere i mocassini e i pantaloni con gli svolzini. Ecco. Oggi sei in lezione funghi. Eh, ma pantaloni è un buon punto, eh. E ti metti solo da funghi. Sono abbastanza su, ora mi metto le... I giallettieri che li metti, per fare sexy showy. Eccoci qua. Grazie a tutti. 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 vai a tutti. 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 sotto. a tutti. 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 a tutti.